Non commettere così 5 errori in aeroporto Mettiti in fila al check-in solo se devi imbarcare la valigia altrimenti fai quello online così passi direttamente ai controlli di sicurezza Controlla dove la tua porta ad imbarco e tieni d'occhio il monitor perché a volte la cambiano all'ultimo momento Non sappiamo come mai ma negli aeroporti fa sempre freddo e anche a bordo dell'aereo quindi portati con te almeno una felpa Non cambiare i soldi in aeroporto perché i tassi sono sempre alti molto meglio prelevarli dalla cassa automatica Anche dove serve solamente la carta d'identità usa sempre il passaporto perché ti dà accesso ai controlli automatici decisamente più veloci Metti mi piace e iscriviti al canale